Palla riconquistata immediatamente, attenzione a tiro, un scelta in spalla nel corpiore Una conclusione assolutamente imparabile, ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il corpiore non sarebbe mai potuto arrivare Ha avuto subito un grande impatto Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato Come è mettere dentro del corporeere Dio, usa il scandalo